Allora ragazzi, adesso faccio sparire la mia faccia di merda, che tanto, appunto, è solamente deleteria a quello che facciamo, e andiamo a guardare un video. Dove, porco di... è Metal Cooler. Dovete smettere di mentire. Bella, regà! Calma. Calma. E' un sacco nel cielo. Allora, aspetta, aspetta, mi devi far vedere il cibo. Cioè, o meglio, l'insegna cosa cucini argabaru ma stavo pronunciando bene secondo me dovevano stare zitti primo giugno 2020 non so perché ci sia questa data un filo di due settimane fa c'era l'ulli rice pure? no fra attenzione questo è un video alla dancing beacons con le descrizioni e i sottotitoli le spiegazioni molto interessante aspetta che mi sposto un po' così vediamo bene they do offer satai chicken by the way peccal is comprised of noodles vabbè non mi fai leggere sweet potato leaves no food long bean and cucumber and side dish of K2Pet the seller was in the process of cutting them into smaller pieces si sono i sottotitoli della paura di Doki Doki il long bean vorrei vederlo cucumber long bean qual è il long bean di questi ah ma ho capito che ha fatto che ho visti cosa è quella roba rosa fra medusa fra te mo grazie di cuore per i 25 mesi fra grazie di cuore a mo what's up dog it's been a while it's been a while fra la diarrea the peanut sauce incredibly thick and creamy 1 euro e 28 1 euro e 28 molto dry però l'ha detto pure lui non è come dancing bacon che quando mangio una roba ti dice sempre si 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 Dani cioè questo qua te lo dice se non è buono e vabbè fine però il formaggino la ricottina quella che si forma proprio lì vediamo che ne viene deep fried vegetable stuffed tofu sarà una merda 32 centesimi per quanto un pezzo uno di quei quadrati costa 32 centesimi back one brava duro il suo cappello però è vero eh niente male special drink called as the back sembra molto special non sembra molto appetitoso add on bread and ta pie si comunque è vero go rozzi go rozzi cincao bella bonjour si ma il drink si ma il drink me lo dai dentro alla bustina di plastica non hai un cazzo di bicchiere pezzente fra la bancarella fra la bancarella del del fresco frutto potato 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 fosforus bombocro bomboclat bomboclat dairi champ no champ si champ eh si meruda incredibile tecnica mango drink bella Roberts the mystery juice the mystery syrup non sembra sembra il sanguinaccio fra eh si non arriva Badlands Choice ma come il tè verde Tommy cazzo qual è per i 27 mesi fra cazzo di cuore a mo esatto nico ho capito fa cala merda quanto urla lo strillone bel suo lavoro ma oh ma ovunque fa le riprese si sente il tizzo che urla ahia mi sa che è lui nasi ayamadu legend viazza special dio ca oh 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 the skin is burning the skin is burning quel culo è burnatissimo fra onestissimo il tizzo che fa il video dobbiamo segnarci questo canale ha proprio detto sti scemi stanno lì a mettere la salsa sopra ma serve solo a farli apparire più buoni eccolo eccolo tozzi ogni porzione riceve una porzione di nasi oh the greens some crunchy greens eh bravo fan bella scautata anche io tozzo mangerei questo piatto di nasi eh sì il marmas con il riso si mangia sempre eh vabbè le emoticon che metto io quando riposto disegno di grande vacca su instagram eh sì giuliano quando il waiter ti ripete l'ordine ed è fuoco vero quando l'aspettatore ti ripete il tuo ordine e suona fuoco vero mosti di half life 2 oh la pambalek quanto tempo che non vedevo una pambalek bra questo canale è troppo serio abbiamo appena visto del nasi ora vediamo della pambalek bra mi sento a casa mia e nasi di delight through combination of coconut, corn and peanut toppings a pambalek special rich and delightful taste of chocolate tutte delightful additions sono comunque of corn ah proprio straight from the can con ancora tutti i juices non sono neanche stati strained quei chicchi di corn mamma mia frax grazie quali per i 23 mesi fra grazie quali frax per i 23 mesi grazie quali a mo a pambalek regular samosa chicken from the same stall filled with shredded chicken herbs and vegetables però vorrei che assaggiasse più cose quello è l'unico difetto le guarda ma non spesso vediamo l'assaggio si ero solo mi sento a casa bakso style a traditional meatball soup king bakso solo la vetnia laghi dan laghi ah qua c'è la special biasa ah questo è quello delle mystery balls abundant tofu canederli carne del mistero bakso soup 1 euro e 50 per 6 palline piccole questo no don't burn the juices in no no yes ma non so crederli eh si è la carne degli alieni fra come fa una carne a diventare così ok 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 goulash è l'unica glory un dollaro e 71 centesimi sull'unica proprio eh ok king bakso solo i am peniett nasi i am eh nasi ho letto una hell powder era da un po' che non vedevamo un po' di hell powder come dio comanda eh deep fried cat fish questo è ciò che mi piace sentire ok fammi vedere il catfish yeah tiniest catfish comunque eh fried catfish rice questo è un po' di nasi regular chicken rice is priced un 71 anche qua concorrenza spietata puoi anche prendere tilapia sì sì noz noz toz eee ayamadu vero pera eh un po' di charring giusto un po' di charring eh lasciamo non le facciamo stare troppo sulla griglia bella like ring voglio il mannone non preoccuparti easy bro easy mamma ma allucinogeni fra o gm guarda che fake asses che tengono questi chickens fra what was all that movement back there what was all that movement back there mamma mia quei quei bustel sono distrutti ma è tutto è tutto bruciatissimo è tutto bruciatissimo in una maniera allucinante cioè ogni ogni cosa è nera cioè è il colore prevalente proprio di questa immagine è tutto bruciatissimo tutto tutto non c'è una cosa che non sia bruciata a morte oh gtll grazie a guarda per 100 bit fra grazie a cuore cazzo grazie a cuore fra troppo gentile fra prezzo assai grazie a cuore 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 come lo trovi divertente per staccare dopo una lunga giornata ti prende molto il cervello e quindi i demoni non possono mangiarti facilmente come al solito grazie a cuore